Maria Chiara Baioni, Arianna Pisicoli e Luisa Tommassoni, classe seconda A, tre compagne di scuola, amiche fin dall'elementari, ora studentesse del liceo linguistico di Fano, ragazze come tante che vivono tra scuola, casa e passioni e che il destino ha voluto fossero messe davanti ad una casualità che ha messo la prova, il loro senso morale e civico. Le tre ragazze ieri pomeriggio, poco dopo alle 14.30, mentre si trovavano in Viale Unità d'Italia per una passeggiata all'altezza della farmacia, si sono imbattute in un sacchetto di plastica che quasi le faceva inciampare e che ha tirato la loro attenzione. Dentro una cospicua somma di denaro, tanti soldi, oltre 3.000 euro e così dopo alcuni momenti di smarrimento e dopo una breve consultazione, la decisione unanime, chiamiamo la polizia e consegniamo i soldi. Ci siamo incontrate e dopo abbiamo visto, mentre camminavamo nel Viale Italia, abbiamo visto questo sacchetto e niente, è stato un attimo sorprendente. Trovare tutti questi soldi non è proprio di tutti i giorni. Eh, esatto. Però vi siete subito chiesti di chi erano, come mai erano lì, vi siete fatte qualche domanda. Abbiamo iniziato a pensare la storia, magari era un signore che andava a comprare qualcosa, che era tornato dalla banca, magari gli serviva per fare qualcosa di importante, però siamo chiesti di un sacchetto di plastica, un attimo, però non siamo posti più di tante domande alla fine. Vi è venuto subito di chiamare la polizia, vi siete messe subito d'accordo? Sì, abbiamo riflettuto, ci siamo messi nei panni della persona che li aveva persi e quindi abbiamo deciso di chiamare la polizia. Ora dopo le lodi del corpo di polizia e l'orgoglio dei loro genitori per il gesto dall'alto significato morale e sociale, in una società sempre più imbruttita dalle difficoltà e dalla crisi, di fronte a questo esempio morale, sarebbe bello che anche l'istituzione pubblica per eccellenza, la scuola, sia partecipe con loro di questo esempio di moralità, utile a tutti quanti.